Ben trovati. Cosa significa la santa inchietudine di Cristo? È la domanda su cui rifletteremo oggi. Intanto questa espressione è stata pronunciata da Benedetto XVI nel 2005, quando ha iniziato il suo ministero Petrino. Vediamo cosa può voler dire. Vedete, credo che possiamo parlarne attraverso anche il capitolo 9 di Matteo, quando Matteo racconta che Gesù percorreva le città e i villaggi, insegnava nelle sinagoga, annunciava il Vangelo e poi, vendendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Ecco un po' questa santa inchietudine di Cristo che si vede attraverso queste parole. Lo vediamo un po' percorrere le città, lo vediamo insegnare, lo vediamo anche consolare, lo vediamo guarire, vediamo che è abitato da quelle solicitazioni che c'è attorno a sé, sta attento a quello che sta succedendo attorno e si rende conto della miseria dell'uomo, delle sue difficoltà, dei suoi limiti. E certamente Gesù è un po' come un padre di famiglia, una madre di famiglia, che se vede che il suo figlio non sta prendendo la buona strada, se vede che si accontenta di poco, se lo vede poco felice, se lo vede accettare le cose che alla fine non lo fanno crescere, un padre, una madre, dei genitori rimangono tristi e c'è qualcosa dentro di loro che non li soddisfa. Ecco, per Gesù è un po' la stessa cosa, questa è la santa inchietudine. Gesù non è felice se ci vede mediocri, se ci vede tristi, se ci vede che avremmo bisogno di qualcos'altro ma ci accontentiamo di quello che ci abbiamo. La sua compassione è collegata alla sua passione dell'uomo. Gesù ama l'uomo. Gesù è qui per dare senso a quel cammino dell'uomo, per fargli capire che lui è la via, la verità e la vita. Ed è questa un po' la sua inchietudine. Quando l'uomo non segue, quando l'uomo non vuole capire, quando l'uomo si sbaglia, Gesù vive come un genitore vive con un figlio. Io credo quindi che quello che, quando si dice, quando si parla di santa inchietudine di Cristo, si voglia dire questo. L'uomo ha bisogno di sentire questo annuncio di amore, di perdono, di misericordia, ha bisogno di sentire queste parole di consolazione che il Signore è venuto a dare. E allora se anche noi, certe volte, ci sentiamo mediocri, se anche noi accettiamo quello che non dovremmo accettare, rileggiamo questo capitolo nome di Matteo. Cerchiamo di farci toccare da questa inchietudine di Gesù che vuole e continua a volerci chiamare a sé. Grazie. 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 Grazie.